Una pasta così non l'avete mai assaggiata, è una bomba. In una padella mettere dell'olio, aggiungere le patate tagliate a dadini e sbucciate, metti un mestolo d'acqua per farle cuocere e aggiungi le taccole già allessate, un po' di sale, lo zafferano sciolto in acqua e quindi lo speck. Fai cuocere, gira che non si attacchi niente, butta dentro la pasta con un po' di trito di rosmarino, spadella e poi finisci con il pecorino romano grattugiato. È una bontà, te lo assicuro. Ciao, buon appetito!